Le nuove lauree, che devono essere lauree flessibili da un lato, in grado di dare una professionalizzazione moderna e dall'altra di far crescere la personalità dello studente, sono legate a tre elementi fondamentali, internazionalizzazione, transdisciplinarietà e innovazione. Al fianco delle classiche lauree in giurisprudenza, in economia, il rapporto di Armadario di cui oggi abbiamo ascoltato la presentazione ci conferma qualcosa di molto importante, laurearsi è importante, non importante dal punto di vista della formazione personale, ma anche dal punto di vista del mondo del lavoro, dell'inserimento all'interno del mondo del lavoro. Abbiamo visto che fra un diplomato di scuola media, un diplomato di scuola superiore e un laureato abbiamo progressivamente un dimezzamento del tasso di disoccupazione, quindi importante per la formazione, importante per la crescita della persona, importante per il mondo del lavoro e importante anche per la retribuzione. Abbiamo visto come le retribuzioni crescano significativamente per i nostri laureati.